Dolcemente Umbria, mercatino dei dolci tipici e natalizi. A Spoleto il 7-8 dicembre, Piazza del Mercato. Degustazioni, esposizioni, laboratori, animazioni itineranti. Sabato 7 dicembre, direttamente da Colorado Caffè. Gianluca Chicco d'Oliva impastato e Gianluca Scintilla Fubelli in Dolcemente Rido. Special guest Alberto Farina. Piazza del Mercato, ore 18, ingresso gratuito. Dolcemente Umbria. Spoleto 7-8 dicembre.